DG Photo Art, it's media, it's art. Sono stati sul palco e non vedivo l'ora, anche perché è il più grande ritorno. Il festival di Napoli, parliamo comunque di questo, è il pranto di dopierta dei grandi festi, quindi è un evento importante. Ti faccio ascoltarmi a tutti, ci sono anche degli artisti che stanno aspettando da noi. Degli, Dilema! Grazie. 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 Posso? Vincenzo, vieni qua. Vincenzo, vieni. Vieni. Questo è un fuori programma, mi voleva accompagnare. Vieni, vieni, vieni. E' il figlio che vi ho fatto. L'ultimo è il papà mentre cantava. D'accordo. Grazie. Posso fare, non so così più precisare? Noi a dicembre, con la crea esposita da parte del nostro salosso, qualcuno non la conosce. Abbiamo una piccola, una commedia, parliamo un po' della storia della Bibbia. E lui fa Gesù. Quindi a dicembre, vedi, il ventuno accerpa il teatro. Ancora non è stato preso, però comunque... Facciamo salire. Che prego, signore e signori. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forte. Ciao.